Il 17 novembre sarà la giornata internazionale degli studenti e noi vogliamo vivere questa giornata abitando le nostre scuole, attraverso lo stile che ci contraddistingue di approfondimento, di confronto e soprattutto di partecipazione. E allora vogliamo prenderci un impegno questo 17 novembre. In tutte le scuole d'Italia portiamo in classe la Costituzione. Grazie a tutti per aver guardato il video.